salva a tutti ragazzi sono zomibest e sono qui senza voce senza cazzo di voce come sempre mi dispiace parlerò poco lascerò parlare jumbo e fra per fare la quarta parte di minecraft quindi ragazzi tantissime richieste nulla tantissime richieste 2.000 likes sulla terza parte 2.000 cazzo likes sulla terza parte account vi siete creati qua con me c'è fra e io sono depresso peggio di giù di zone è peggio di me partiamo intanto per un motivo ragazzi ragazzi se volete che già un bonitone free ci dovete mettere anche 2.000 like esattamente punto 2 spieghiamo sul canale di jumbo trovato un video incazzatura tra virgolette dove il video commovente beh a parte il video commovente quello incazzatura dove tu gli dici cazzo il mio pc ho fatto un casino è in assistenza gli è tornato il pc fisso però si scalda ancora e io gli ho detto prendi intel no prendere md prendi intel no no adesso qui non è più problema di processore ok qua sarà un problema secondo me il dissipatore che si è fottuto ma la corsair fa cose brutte no la corsair non fa cose brutte magari sarà difettoso vabbè ma non importa non importa se jumbo crescia ragazzi non possiamo farci niente sta giocando con tutti i dettagli al minimo sperando di non far scaldare il processore ma praticamente vedo bene tutto ciao la risoluzione al massimo ma il texture sembra che poi siamo già su minecraft che sono quadrati no quindi non ho se immaginare cosa tu stia vedendo temperature processore 63 63 63 no beh 63 va bene ancora però ho toccato un picco di 81 sai che mi turba che tu riduci piano e lui si raffredda subito è bene eeeh jambo sei già andato a terra eh jambo sono andato a terra sto contando le temperature e qua e qua non riesco a rianimarti girando perchè sono un abbo quindi aspetta un secondo che comunque questo nuovo tentativo ce l'avevi chiesto voi perchè avete visto quanto di quanto forti siamo però noi siamo ci ho letto dei vostri commenti che appunto spiegavano come attivare la corrente ma non mi ricordo come si faceva no io ho sentito dire io ho io ho sentito dei pulsanti e ho sentito anche di un muro che non abbiamo visto un muro nascosto come ripeto perchè loro vedono tu e noi no caro fra voi mi siete vicino che noi stiamo facendo una custom mappa così a caso zombie si era prima informato e ora non sape un cazzo eh io mi ero informato ma non mi ricordo cioè mi sono informato qualche giorno fa e chi si ricorda intanto jambu è ancora qua sta controllando le temperature intuisco no stavo in realtà mi stavo mettendo offline su steam ah bene ok beh ma se sei resistito fino adesso è probabile che non cresce perchè ci dovrebbe scadere subito eh l'ho chiamata no adesso ma di solito cresce subito su battlefield quando l'ho acceso prima quanto sei durato? 3 secondi sono salito su un carro armato e spuso tutto ottimo eh vedi mi piace questi video tutorial l'altra volta Debre con la scheda video eh l'altra volta Debre questa volta Debre processore non l'ho più sentito Debre io sono coltuto perchè non ho munizione ho paura di accoltellare eh compra una carabina fidati non le compro mai di solito ma in questa mappa si oh oh emmo e lui anche le ha chiamate però lui lo ascolta siccome secondo me intuisco a me non mi ricordo la gentiletto tipo di commenti che diceva ci sono tre pulsanti da premere tutti e tre insieme esatto esatto ma è che certi dicevano dei pulsanti altri dicevano giù un muro di una parete verso la lava non mi stessamente dei commenti che io mi impongo si può sapere che cazzo ho bisogno da fare e io sono lui io ti vorrei di andare subito al nether eh esatto laggiù bravo e di cercare lì se c'è non facciamoci cazzo non facciamoci cazzo non facciamoci cazzo se dobbiamo fare cazzo lo facciamo fare solo a zombie esatto perché lui non deve più aspetta io mi dispiace ragazzi non devo più fare cazzo se la devo fare la faccio una volta ogni sette anni apro una parentesi vai apro e poi la chiudo e poi chiudila bravo chiunque dica poi magari di solito c'è una cazzata che esistono cheat che possono far uscire Regan o Wunderwaffen dalla cassa si sbaglia completamente si ok fra assolutamente tanto sedere esatto dovuto al fatto che comunque se io faccio una cassa e lui ne fa quattro è ovvio che ha più probabilità di che gli esca la Wunder tutto qui questo è vero perché la gente gli da veramente del cittone ma infatti io si l'ho letto l'ho letto ma io penso che alcuni di loro scherzino ma magari alcuni non lo capiscono e se alcuni sono convinti e di ciò la situazione qua prende una brutta piega è pericoloso perché manderemo chaz se voi dite se voi dite che io sono hacker è come dire che chaz non è albanese spateremo come dire però è come dire che chaz non va in giro la notte a tagliarmi le gole esatto questo è un ottimo esempio quindi oggi spateremo questo tabù ragazzi poi oggi ho la voce minacciosa no? è quello che succederà a voi basta ripeto oggi dimostreremo che Francia in città e che io zombie best troveremo la Wunder esattamente anche perché come ha detto già fraculo e lo avete visto prima anche lo avete visto prima ha detto io non ho emmo cosa posso fare due secondi dopo spawnano le munizioni io non ho ancora io non ho ancora munizioni in realtà ah l'hai finito di nuovo? bene ma se si riescono a un munizio al massimo ora però io dico subito che non faccio cazzo lo dico e lo faccio non posso uscire sono appena uscite ecco ho finito al piccoli comunque ciò abbassa un attimo giocicola allora vai 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 temperature tempico massimo 81 temperatura attuale 66 bene 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 fatta il picco massimo di 81 l'avrà fatto mentre caricava la mappa jambo e probabilmente se non cazzo ora non cazzo non cazzo più però domani andò però va risolto che mi ha venduto va risolto caro jambo va risolto io t'ho detto se se tu ne avessi le competenze di non disfare tutto di nuovo ti farei cambiare a te dissipatore sì siccome già una volta te lo sei disfatto e non il dissipatore lo sappiamo entrambi non ho detto non ho specificato non l'hai specificato non ho specificato perchè non voglio non voglio che la gente conosca credevo di aver rotto mezzo computer con una sola mossa ma non importa sì sì ma erano paure fondate fidatevi di me alla fine mi sono rivelato un'altra volta stolto esatto esattamente un po' che parola oggi sono io cosa appremmo per jambo per la mia scontata vuoi ascoltare la mia idea per aiutare jambo? sì una colletta entriamo nel costo dell'ipidae e rubiamo un computer tra l'altro tra l'altro un altro appello vai apri la parentesi chiudila e mettici punto e virgola vedendo il video di zombre verso il secondo canale che invito tutte ad andare a vedere al secondo canale sì di payday 2 di chi è venuta voglia di giocare a payday 2 io non ho mai giocato a un payday e mi piace come gioco di scatocchi no no ora facciamo una colletta e invece di dargli un processore a quel cazzo gli è rotto facciamo gli payday 2 inviate 50 centesimi al conto di zombie best che trovate in descrizione esattamente sarà sicuramente lì che poi lui il 90% sarà a terra per sé e poi esatto e l'altro 10% per jambo perchè l'obiettivo principale è investire per attrezzatura video di jambo chi se ne frega insomma attrezzature video come ragazzi se non fosse stato per me forse jambo non sarebbe mai venuto perchè io ho supplicato il povero zombie dicendo io ma ragazzi apriamo non è vero non hai supplicato nessuno che cazzo io aprirei ma non è completamente falso da che cazzo non ci demanis lasciamo ne uno lasciamo ne uno tolcia in Italia lasciamo ne uno dai apri apri il bianco c'è alle soldi eh apro io coi big money no apro io allora adesso no voglio aprire io ma io stato qua c'è l'altra vabbè dov'è che era aspetta non mi ricordo ma solito che mi porto con i donoi qua 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 vai jambo apri tu qua 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 però non è vero non è di qua no no jambo no jambo non mi ricordo jambo allora qui ci hanno detto la mela la mela è la power up aspetta forse ho capito guarda la mela dove è la mela la mela dorata che idioti che siamo qual è la mela dorata dov'è che la vedi questa quali sono i doppi punti stolta si ok bella butta via i punti come sempre servono guarda guarda il pulsante questo qua è quello che ci dico da coltellare forse si di premere assieme però qua qua sotto c'era anche una porta seguita è impossibile comunque si su world at war non ho mai visto una cosa del genere comunque se uno gioca in singolo che fa e anche ero questo eccola cosa eccola ah no ma giamula smetti di tirare falsi allarmi eh ho tirato un libro eh easter egg i don't think so i want to give a quick shout eh non lego le texture basse eh l'avevo trovato anch'io quello si qui c'è un'altra leva che non va qualcuno ha detto che bisogna boh mi devo tuffare di nuovo io no non tuffarti e non cadete soprattutto allora è caduto lo zoom oddio ah no qua compri il flamethrer oddio aiuto bene ecco sono uscito oddio mi è comparsa se non fai mi era comparsa non posso urla eccolo eccola 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 qua giambo ah non è vero guarda guarda aspetta dio mi attiratemi via sto zombie di merda è vero eh paga pancia paga pancia ma non l'avevamo trovata questa eh non l'avevamo trovata questa è nuova ma adesso lo storpio questo lascia fare i pro per favore eh vabbè eh è morto mi stavamo ammazzando io tutti su tutti su siamo morti vi lo dico eh ok questa era la paga pancia quindi sarà l'unica cosa che mi rimane da pensare sono i pulsanti ma come ma su world tour non esiste una specie di plug in cioè si puoi fare di tutto nelle custom magari non contemporaneamente non da premere contemporaneamente ma da premere in generale ecco sto venendo su sono della merda ho finito i colpi della carabina io non ho mai visto una mappa del genere casino vabbè la carabina vai tutto aiuto aiuto sono morto sono morto sono sotto finiti i colpi di carabina io non ho munizioni sono sotto senza colpi di carabina ragazzi ragazzi faccio una cosa da pro to 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 ma perché ho morto che chiamano munizioni esco basta sono riuscito a uscire se l'avrei fatta comunque ho avuto un culo di quelli poi pulsanti del genere io non ne abbia mai visto non ne ho idea non ne ho idea poi se non sbaglio qualcuno mi ha detto c'è no mi è arrivato da lì qualcosa con i poster forse cioè è quello che mi avevano detto della porta a quando pare la porta per il pagapance niente porte per la corrente quello che mi sta che cazzo cosa era sta roba era la batteria del telefono che si stacca si bene non ne va una giusta batteria del telefono intensiva però che lagga batteria del telefono basta basta attaccarla a corrente eh ma poi lascia stare che ho preso la scosta l'altro giorno te l'ho detto è un periodo fortunato con gli elettrodomestici in casa da Jambu è rimasto solo l'immortale e per immortale intendo portatile lui non muore mai è invincibile è come il mio netbook è rimasto acceso tipo per un anno intero senza mai spegnerlo e va ancora da chiuso è un anno intero da chiuso veramente? sì l'anno scorso da fuck eh mi portava la connessione in camera lo usavo come hotspot poi ho comprato un extender ma quando avevo il motel usavo il cochile uno zombie torniamo sotto l'esplorazione eh allora ah ho tutto arretto quel bel l'ha coltellato perché ah lui ammazzano bene no no toglia su Jambu non andiamo giù no beh è finito la mia ora è meglio di una mp40 è un po' meglio della carabinia ma perché li ho voglio qua con il car 98 oh no cazzo dove sei finito eh stavo comprando la mp40 eh ma adesso ah adesso vado a terra anche io orca come faccio no Jambu no Jambu ho fatto io la cazzata comunque la vedo una leva eh quella leva vuol dire qualcosa zombie almeno che non troviamo una instant sai che sei morto sì lo so lo so lì non c'è non c'è non c'è modo eh di sono morto in un posto di merda e continuo a arrivare zombie lascia perdere intanto io penso intanto io penso se la cazzo un attimo non sto facendo niente me ne ho dato due manate non sono morto se la ah ho capito cosa stai facendo ma perché sto sparando solo io opera opera non dirmi che vai su youtube ma non ci penso nemmeno no vediamo un po' vediamo un po' fra augurati che ammelo ammo vai 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 voi giocate te ma si noi facciamo vedere i veri progainer vero il gambi eh bombone minchia nooo buona internet youtube 24 zombie 21 19 muoviti il telefono di merda ma te teniamo al massimo uno se devi fare minecraft power vediamo no perché qua non capisco se con noi ci giriamo anni se non troviamo la corrente quindi andrea vieni ci sei tu in tv gambo cosa da quando sei in tv non lo so sarà qualche simpatico non lo so chi sia come non sai chi sia non lo so non ho il numero salvato ma forse ho qualche idea qualche burlone pensi ti stiano sfottendo eh mi sfottano zombie chi facciamo ma io c'ho un video aperto che però che però gianbu gianbu vieni dai ragazzi dov'è la power vieni con me no perché dovete capirci voi eh le torce che noi possiamo starci qua tutto il giorno secondo me è contro le pareti però fra ho bisogno che tu faccia ma non non troveremo mai nulla vado io vado io vado io aspetta adesso ci penso io lo storpio è fermato se qua è ancora senza jug significa che fatto lo storpio ah no oh ma uno due tre zombie no no zombie zombie stop al video stop al video perché gianbu zombie qua giù ora perché sto prendendo no moriamo fra io non ci vado giù va bene allora vuoi dire che se voglio l'elettricità no no fermo non attiverò niente dove era ok sto venendo giù dove era no perché ti uccido aspetta sto venendo giù finiamo il round finiamo il round e io sono giù adesso però aspetta arrivo ma che cazzo no no adesso fra tu va a culo io sto guardando un video su youtube per capire dove era e tu me l'attivi così a caso si oddio qua si compra l'mg42 intanto eh per quanti 3000 lo compro subito mi faccio cassa non abbiamo fatto una cassa press f to diamond house press f ti ho aperto la casa sopra vero è il portale bene è il portale va scusa descrivimi qua sotto dove l'hai trovata oh cazzo no descrivimi dove l'hai trovata ciao sono dietro di te ah ciao vedo gli zombie ma ho comprato un mg42 non preoccuparti non si può girare sono dietro di te ma porca controllo le temperature oh salve non so come sono arrivato da te ahia ragazzi ah ti siete trasportati cosa c'è Jambu 73 radi quanti? 73 eh sono mantissimi no sta un po' andando su Jambu resisti abbiamo trovato la corrente nulla è perduto e c'è anche l'istakill prendi questi istakill no no l'ho preso non l'ho preso no si l'ho preso l'izomi mi ha spostato fra fra ti prego uccidere fra 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 vai l'izomi mi ha spostato esci da qui vai 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 sparai vai 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 stomi dai non rischiare fra non rischiare non rischiare non rischiare non no vai u ce la fai vai 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 dai 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 bravo bravo fra bravo fra ok possiamo andare a prendere il giallo adesso subito il giallo subito il giallo Mostra intanto dov'era Perché qua noi siamo stolti Ma Che bastardi Che Bastardi Sì però è realistico perché su minecraft Si può attraversare solo i quadri Ecco Dai non la terra È irrealistico Zombie In onore a tutto ciò vado a farmi una cassa Vai no 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 vai a aprire la porta alla giaga Capri subito la porta alla giaga Dov'è la porta alla giaga? Eh non me lo ricordo Dov'era la giaga Giambu Ah no è sotto giaga È giù È giù giaga No no bene allora Vabbè Vai uno fa cassa Uno fa giaga E poi ci troviamo E poi esatto Dove vuoi esponare? Beh cassa mi sa Cioè Giaga di sotto è impossibile Eh dopo bisogna tornare su infatti È meglio se io torno su e lo ammazzo